Il patto per la salute tra governo e regione è stato al centro dell'incontro che si è svolto nell'auditorium del CTO a Firenze. Il presidente Enrico Rossi ha ricordato che dopo anni di difficoltà e restrizioni il patto rifinanzia la sanità pubblica fissando nuovi livelli di assistenza, riaprendo il capitolo degli investimenti e aumentando le risorse a disposizione delle regioni. Per la Toscana si parla di circa 130 milioni nel 2020. Per la prima volta dopo questo periodo di restrizioni è stato rifinanziato anche il contratto e questo è senz'altro positivo. Sono stati tolti i tetti per le assunzioni e anche questo è positivo e tra regioni e governo nazionale è stato firmato questo che si chiama patto per la salute. Cuore del patto per la salute ha sottolineato anche l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi i livelli essenziali di assistenza che vedono la Toscana e i vertici nazionali, tra gli altri risultati ricordati nel corso dell'evento anche quelli raggiunti in materia di riduzione delle liste d'attesa.